Un fondo da circa 30 milioni di euro a disposizione di nuovi imprenditori o di chi ha bisogno di rafforzare la propria azienda. Il progetto è del Movimento 5 Stelle e a costituire il fondo sono proprio i soldi dei compensi a cui i politici pentastellati hanno rinunciato. Sentiamo Raffaele Crocco. Lo hanno promesso, lo stanno facendo, restituiscono soldi. Bisogna mettere la sorpresa scoprendo il progetto targato 5 Stelle. L'idea è semplice. I soldi dei compensi che i parlamentari e i consiglieri 5 Stelle si sono autotagliati, in Trentino sono l'onorevole Riccardo Fraccaro e il consigliere provinciale Filippo De Gasperi, sono finiti in un fondo di circa 30 milioni di euro. In accordo con il Ministero quel fondo sarà garanzia per chi vuole lanciarsi in nuove imprese o consolidare quelle che ha. Potrà preparare il progetto con l'aiuto gratuito dei consulenti del lavoro che si sono messi a disposizione. Dopo Pasqua potranno presentarlo al Ministero e se ci sono i requisiti riceveranno un voucher da presentare in banca. Sarà la certificazione che il prestito è garantito appunto dal fondo creato dai politici 5 Stelle. Semplice? Sì, spiega Fraccaro. I trentini, tutti i trentini hanno la possibilità di realizzare una propria idea. Possiamo erogare a qualsiasi, un giovane o un imprenditore che vuole ampliare la sua attività, un piccolo imprenditore, 25 mila euro, 35 mila euro in base alle condizioni per sviluppare un'idea. Zanella, presidente dei consulenti del lavoro trentini, dice per noi è una opportunità. I consulenti del lavoro a livello nazionale, noi qua in provincia di Trento siamo oltre 130, siamo 135, si sono messi a disposizione per fare in modo che questi soggetti riescano a portare, a gestire in maniera adeguata questa interessante iniziativa. Grazie.